Dekigeemu, presenta Nel portare idee e ambientazioni originali Nei giochi di ruolo su console Dal proporre avventure libere con storie multiple A sistemi che ti permettono scelte e strategie personali Per me gli RPG di Masuda hanno sempre avuto un certo fascino Quando ne sentivo parlare nelle vecchie riviste e nei forum di videogiochi Tra gli anni 80 e 90 Shoji ha lavorato con altri autori cult Come Hiroshi Miyahoka, Akira Sakuma e oggi Hiroi In compagnie come Hudson, Data East e Red Company Purtroppo come capita spesso con gli autori che ti racconto nei video di Dekigeemu La maggior parte dei giochi di Shoji e Masuda sono rimasti solo in Giappone Negli ultimi anni alcuni fan stanno creando delle traduzioni amatoriali Dei suoi titoli più famosi Però rimangono tante altre sue opere affascinanti e poco conosciute Che forse non giocheremo mai in una lingua comprensibile C'è da dire che a Masuda non gliene mai fregato molto di diventare famoso con i videogiochi Da piccolo aveva altri interessi e da giovane lavorava in un'agenzia pubblicitaria Forse anche per questa relativa lontananza dal mondo videoludico Le idee che ha proposto sono state così diverse dal solito Quando si è ritrovato un po' per caso a creare videogiochi Ha capito che sarebbe stato inutile copiare quello che facevano gli RPG molto più famosi Come Dragon Quest e Final Fantasy Insomma in questo episodio di Forerario Videoludico Vorrei raccontarti la vita familiare e gli RPG alternativi di Shoji Masuda Vediamo insieme la sua biografia, i giochi più interessanti su cui ha lavorato E i sistemi personali da cui nascono le sue idee Come al solito mi serve un po' di tempo per raccontarti tutto Naturalmente senza spoiler per non rovinarti le storie dei giochi Se l'argomento ti interessa metti pure il video nei preferiti Così te lo guardi a pezzi in più giorni In ogni caso, buona visione! Ciao! 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 Come al solito per intuire meglio come e perché un autore ha creato un certo tipo di giochi Vale la pena iniziare a parlarti della sua vita Shoji Masuda è nato nella città di Imeji nel 1960 Come detto da piccolo non era appassionato di videogiochi Anche perché in Giappone sono diventati un intrattenimento popolare solamente una ventina di anni dopo Nella sua generazione la tecnologia che faceva compagnia ai bambini era soprattutto la televisione Da quanto ricorda era sempre accesa nella loro casa Gli bastava dare un'occhiata a qualche programma che stavano facendo in tv per capire che ore erano L'altra passione di Shoji è sempre stata la lettura Suo padre lavorava nel mercato finanziario e ogni giorno comprava il Nyon Keizai Shinbun Che è uno dei quotidiani giapponesi dedicati all'economia Visto che non c'erano mai abbastanza libri in casa di Masuda Lui da piccolo si divertiva anche a leggere il giornale di suo padre E questo ha formato in lui una certa consapevolezza sul mondo dell'economia Tra le sue letture preferite c'erano anche i vocabolari e le enciclopedie Pieni di parole misteriose e informazioni sul mondo Ad esempio uno dei suoi volumi preferiti è un dizionario che raccoglie vecchie parole giapponesi Cadute in disuso Per lui questi termini antichi hanno un certo fascino elegante e nostalgico L'altra azione di Masuda verso il passato si ritrova anche nel rapporto con i suoi antenati Da quanto racconta a Imeji non c'erano altre famiglie con il loro cognome Gli sembrava di fare parte di una dinastia scomparsa e lui era l'unico erede che poteva farla continuare nel tempo Quando andava a casa dei nonni vedeva le foto dei suoi antenati fino a molte generazioni precedenti E quei volti gli facevano una certa impressione Erano parte della sua famiglia però non li aveva mai conosciuti E ormai erano perduti in un passato lontano Shoji racconta anche un aneddoto interessante di quando frequentava le scuole medie Durante l'estate era uscito con una ragazza che gli piaceva Hanno fatto una gita per vedere insieme una delle ultime locomotive a vapore Che ancora funzionavano nella provincia di Shinshu Anche se ufficialmente non erano fidanzati Quel giorno pioveva e passeggiarono a braccetto sotto l'ombrello Lui si sentiva un po' come il personaggio di qualche anime romantico Purtroppo qualche settimana dopo avrebbe dovuto trasferirsi a Kyoto Per frequentare le scuole superiori e non vide più quella ragazza Lei si chiamava Masaio Kawaguchi Ed è sua la voce di Ayako Katajiri nella serie cult di Tokimeki Memorial Insomma Masuda è stato uno dei pochi ragazzi giapponesi A essere uscito davvero con delle waifu di Tokimemo Dopo aver finito le scuole superiori Shoji si iscrive alla Musashino Art University di Tokyo Erano due i motivi principali per cui aveva scelto questa scuola Il primo motivo erano le ragazze A quanto pare alla Musashino c'erano molte più ragazze A confronto con le altre università Visto che per studiare doveva vivere lontano da casa Per Shoji era una buona occasione per avere tutta la libertà che cerca un giovane adulto Il secondo motivo invece era il fascino del mondo dei copywriter Quelli erano gli anni in cui personaggi come Shigesato Itoi Erano diventati molto molto famosi nel mondo della comunicazione Te ne avevo parlato qualche anno fa nel video sul manga punk di Shigesato Itoi Per i giovani di quegli anni lavorare nella pubblicità aveva quindi un certo fascino esoterico Il dipartimento che aveva scelto Shoji era quello di Basic Design Proponeva di studiare praticamente ogni cosa sotto il punto di vista del design Dalle lettere ai segnali stradali Visti i tempi gli sembrava quello con cui sarebbe stato più facile trovare un lavoro Però frequentando i corsi Masuda non si sentiva all'altezza degli altri studenti C'erano giovani con grandissimo talento in ogni campo dell'arte A quel punto pensa che per trovare lavoro la cosa migliore non fosse superare le loro abilità Ma invece investire nella sua capacità di comunicazione e organizzazione In quel modo poteva dirigere i talenti degli altri verso un obiettivo in comune Anche il suo progetto di laurea era un po' diverso dal solito Invece di proporre un design visivo ha scelto di fare il design di un sistema Inventando un nuovo gioco di carte I suoi professori erano un po' confusi Però alla fine erano loro a insegnare che tutto è design Dopo essersi laureato nella metà degli anni 80 Masuda ha trovato lavoro in una grande agenzia pubblicitaria con sede a Tokyo Purtroppo quello che immaginava come un ambiente interessante pieno di persone creative Si è presto rivelato solo un altro classico ufficio dell'industria capitalistica giapponese I dipendenti dell'agenzia passavano la maggior parte del tempo a girare per le aziende Per fare riunioni con i clienti Organizzare gli spazi pubblicitari e i budget dei vari progetti Che aveva un po' di creatività non sopportava a lungo quel tipo di lavoro E quindi se ne andava per mettersi in proprio o fare altro nella vita Come puoi immaginare presto anche Shoji seguirà quella strada Tra i tanti clienti dell'agenzia pubblicitaria C'era anche un'azienda chiamata Hudson In quegli anni era molto amata tra i giocatori per cose come Bomberman e Star Soldier E nella metà degli anni 80 aiutò NEC a creare il PC Engine Purtroppo in occidente è stata una console poco apprezzata Però in Giappone ha avuto un grandissimo successo Tra il 1986 e il 1987 Hudson stava anche lavorando su due giochi ispirati alla leggenda di Momotaro Praticamente quel bambino nato da una pesca Che parte poi per un'avventura dove combattere contro i demoni Insieme a un cane, una scimmia e un fagiano Da questi personaggi Hudson ha poi creato Momotaro Dentezu e Momotaro Densetsu Anche io all'inizio li confondevo ma sono proprio due giochi diversi Il primo è un classico RPG a turni con la storia che era una parodia della fiaba Invece il secondo è uno spin-off multiplayer in stile gioco da tavolo Immaginalo come un monopoli dove i giocatori tirano i dadi Si spostano sulle caselle con i loro treni E cercano di raccogliere più proprietà e soldi degli avversari Hudson puntava molto su questa serie E per promuoverla si erano affidati proprio all'agenzia pubblicitaria dove lavorava Masuda È in quell'occasione che Shoji ha conosciuto Akira Sakuma L'autore che ha concepito i giochi di Momotaro Hudson però era in ritardo con la consegna dei materiali che servivano per la pubblicità Masuda quindi è andato a lamentarsi con Sakuma E ha scoperto che il team era molto molto indietro con lo sviluppo dei giochi E non avevano abbastanza persone per organizzare quello che mancava A quel punto Akira dice a Shoji che se aveva fretta di ricevere il materiale che gli serviva Allora poteva aiutarli lui a finire i giochi Come puoi immaginare Masuda accetta la proposta Collaborando con Hudson si era accorto che il mondo dei videogiochi Era un ambiente giovane pieno di persone strane e interessanti Proprio quello che sperava di trovare nel mondo della comunicazione Al contrario l'agenzia pubblicitaria era un posto noioso Gestito da vecchi capitalisti dove lavoravano persone fin troppo normali per i suoi gusti Masuda avrebbe dovuto aiutare Sakuma a scrivere lo scenario Disegnare le mappe e gestire la routine dei combattimenti per i giochi di Momotaro Visto che non era mai stato un appassionato di videogiochi Per capire meglio come funzionano Ha comprato il primo Dragon Quest per Famicom E lo ha giocato prendendo appunti di ogni tipo Tieni conto che in questo periodo Masuda era ancora assunto ufficialmente dall'agenzia pubblicitaria Praticamente di giorno lavorava sulle pubblicità E di notte andava da Hudson per aiutare Akira con Momotaro Poi tornava a casa verso le 5 del mattino Dormiva un paio di ore e ricominciava tutto da capo Shoji racconta che un giorno era così stanco che è praticamente svenuto davanti alla porta dell'ufficio Insomma un esempio del folle stacanovismo giapponese Durante quel periodo Masuda scopre anche che abitava molto vicino alla casa di Sakuma E ogni tanto si fermava da lui insieme ad altri colleghi per bere e giocare insieme Alla fine sono diventati dei grandi amici e hanno collaborato su altri capitoli di Momotaro In particolare per la serie di Dentezu che negli ultimi anni è uscita anche su Nintendo 3DS e Switch Tra l'altro il capitolo per Switch è uno dei giochi più venduti per la console in Giappone Mentre sto lavorando a questo video ha venduto più di 3 milioni di copie Sicuramente è stata una bella soddisfazione per Masuda Se tieni conto di come ci sia capitato a lavorare un po' per caso A oggi purtroppo nessuno dei Momotaro è mai stato pubblicato ufficialmente in Occidente E solamente il primo Densetsu, praticamente l'RPG, c'è una traduzione amatoriale in inglese Sempre verso la fine degli anni Ottanta Hudson stava collaborando anche con Red Company e oggi Hiroi Per creare il primo Tengai Makiyo Ziria Un RPG per PC Engine che avrebbe sfruttato il nuovo add-on a CD per la console Forse ti ricordi che ti avevo parlato di Hiroi nel video sulla storia di Sakura Wars Infatti è lui che ha concepito anche l'ambientazione di Tengai Makiyo Il gioco era molto importante per la strategia di Neck e Hudson Visto che avrebbe dovuto convincere i giocatori a comprare l'espansione a CD Naturalmente dovevano pubblicizzarlo e l'agenzia dove lavorava ancora Masuda Era incaricata anche di questa campagna pubblicitaria Purtroppo per Red Company Ziria era uno dei primi videogiochi su cui avessero mai lavorato E quindi avevano qualche problema a gestire il progetto Tanto che è stato ricominciato da zero per diverse volte Hiroi era un amico di Sakuma e dopo il successo di Momotaro Hanno chiesto ancora Shoji se poteva aiutarli anche con Tengai Makiyo Questa volta però Masuda non voleva passare allo stesso inferno che aveva passato l'ultima volta Facendo due lavori diversi di giorno e di notte Quindi ha detto a Hudson che non poteva aiutarli A meno che non lo avessero pagato una cifra molto molto alta Che pensava non gli avrebbero mai dato Quelli però erano gli anni di boom economico nel mercato dei videogiochi Quindi per Hudson pagare quei soldi non era un problema E gli dissero che andava bene Alla fine per loro era essenziale completare Tengai Makiyo nel migliore dei modi Un po' sorpreso Masuda accetta il lavoro E chiede all'agenzia pubblicitaria quattro mesi di aspettativa per lavorare full time sul videogioco Con la sua direzione Tengai Makiyo viene completato con successo E pubblicato su PC Engine CD nella metà del 1989 Il gioco segue il gameplay dei classici JRPG Però quello che lo rendeva speciale per l'epoca era l'uso della tecnologia CD Con tutto quello spazio a disposizione hanno inserito un sacco di animazioni, musiche e voci Che lo rendevano un'esperienza ancora più cinematografica rispetto agli altri RPG a 8 e 16 bit La storia è ambientata in una parodia del Giappone feudale Mischiata al folklore fantasy e un po' di tecnologia steampunk Ad esempio con treni e robot giganti Insomma quel tipo di ambientazione divertente che rendeva così affascinanti gli anime degli anni 80 e 90 In Giappone Tengai Makiyo è stato un grande successo Diventando popolare tra i fan degli RPG tanto quanto Dragon Quest o Final Fantasy Purtroppo non è mai stato tradotto ufficialmente fuori dal Giappone Anche se durante gli anni è stato ripubblicato per diverse console Mentre sto lavorando a questo video non esiste neanche una traduzione amatoriale Dopo i mesi lavorando da Hudson Masuda è tornato alla sua agenzia pubblicitaria Dove ha scoperto che la sua sedia era sparita E la scrivania veniva usata come magazzino Sembrava un po' un modo gentile per fargli capire che aveva deluso le aspettative dell'azienda Insomma per Masuda era arrivato il momento giusto per cambiare vita Vista la fiducia e i soldi che aveva ricevuto da Hudson Gli sembrava una buona idea quella di mettersi in proprio e lavorare come consulente nel campo dei videogiochi Anche perché oggi Hiroi aveva bisogno del suo aiuto per il seguito di Tengai Makiyo Prima di passare a Tengai Makiyo 2 vale la pena citare anche Metal Max Un altro RPG cult a cui aveva collaborato Masuda tra il 1989 e il 1991 Il gioco era stato concepito da Hiroshi Miyahoka Sviluppato dal team Createc e pubblicato dalla Data East Sembra che Masuda e Miyahoka fossero compagni di classe alle elementari E poi sono rimasti amici con il passare del tempo Da molti anni Hiroshi voleva creare un gioco da tavolo Ambientato nella parodia di un mondo post apocalittico Dove usare un carro armato e altri veicoli per esplorare e combattere Quest'idea era rimasta in testa a Masuda E quando Data East stava cercando dei nuovi concept per sviluppare un RPG originale Ha chiesto a Hiroshi se era interessato a condividere quello che aveva immaginato Anche se erano appena iniziati gli anni 90 I due amici erano d'accordo nel pensare che gli RPG per console sembravano un po' tutti uguali Con una storia lineare e un mondo poco libero da esplorare Miyahoka voleva quindi proporre un gioco di ruolo con una struttura più aperta Qualcosa che oggi definiresti come un open world Ti ho parlato tante volte di Metal Max nei video del progetto Geekigemu Visto che è una serie che mi ha sempre affascinato I protagonisti sono dei cacciatori di taglie C'è un mondo post apocalittico da esplorare liberamente a piedi O con diversi veicoli E puoi completare le missioni nell'ordine che preferisci L'ambientazione è proprio una parodia di cose come Mad Max oppure Kenshiro Con tanto umorismo demenziale I personaggi e nemici che incontri hanno tutti un design strambo Tra formiche mutanti, teppisti punk e cani robotici con un lanciamissili sulla schiena Per quegli anni era un gioco davvero unico su console Masuda ha aiutato Miyahoka con la produzione del progetto e la scrittura dello scenario E solo grazie alla sua intermediazione con Data East è stato possibile crearlo Purtroppo Metal Max non è mai stato pubblicato ufficialmente in occidente Però nel 2018 è uscita una traduzione amatoriale in inglese In seguito Masuda ha collaborato anche su Metal Max 2 Uscito nel 93 per Super Nintendo E di questo al momento non esiste una traduzione amatoriale Però i fan stanno lavorando alla traduzione per il remake Che era uscito per DS nel 2011 Fino a qui la storia di Shoji Masuda è già abbastanza curiosa Solo nel Giappone degli anni 80 e 90 Un tizio a caso poteva essere preso per lavorare su tre serie cult di videogiochi E con il seguito di Tengai Makiyu però Che entra ufficialmente nell'immaginario dei fan degli RPG giapponesi Questa volta Shoji ha diretto il progetto fin dall'inizio Riuscendo a influenzare il mondo, i personaggi e il gameplay E' proprio con Tengai Makiyu 2, Manjimaru Che si intravedono anche i primi elementi della sua filosofia di game design In quegli anni Masuda si sposa, si allontana dai genitori e va a vivere con sua moglie in una nuova casa La separazione dalla famiglia, la partenza per un viaggio misterioso, il senso di gioia e speranza per il futuro Sono tutti temi della sua vita che ripropone nella storia del gioco I protagonisti di Tengai Makiyu 2 viaggiano nel mondo per un anno dall'autunno alla fine dell'estate Con l'obiettivo di evitare la nascita di un demone molto potente L'idea originale di Shoji era quella di inserire un orologio interno Che facesse passare le ore, i giorni e le stagioni Influenzando l'ambientazione e i personaggi che si incontravano Purtroppo per mancanza di budget non sono poi riusciti a implementare questo sistema Per aiutare Hudson e Red Company con lo sviluppo si aggiunge anche Alpha System Il team che poi lavorerà a tanti altri giochi cult di Masuda Manjimaru era stato pianificato per sfruttare il Super CD-ROM Praticamente una versione aggiornata dell'espansione a CD del PC Engine In pratica c'era ancora più RAM e velocità di lettura Come è successo con il primo capitolo Questo seguito doveva dimostrare ai fan giapponesi la meraviglia del Super CD-ROM E quindi invogliarli a comprarsi l'ennesima periferica Quando è uscito nel 1992 Tengayama Q2 era uno degli RPG più grandi e lunghi mai creati per console Sembra che la storia fosse stata pianificata per far succedere qualcosa ogni 10 minuti E trovare un evento principale ogni 30 minuti Con quasi 100 ore di gioco per finirlo Heroi chiese a Masuda di concentrarsi sui personaggi per immaginare dei protagonisti affascinanti Pieni di personalità e umorismo Senza dimenticare però qualche lato drammatico e nostalgico Naturalmente rimane l'ambientazione con la parodia del Giappone Con tante situazioni assurde e un robo gigante con cui ti muovi per il mondo A oggi Manjimaru rimane uno degli RPG più amati dai fan giapponesi Purtroppo anche questo seguito non è mai stato tradotto ufficialmente in occidente E mentre sto lavorando a questo video non esiste una traduzione amatoriale Heroi aveva immaginato la saga di Tengayama Q come una trilogia E dopo il secondo episodio Masuda aveva già scritto l'idea per un terzo capitolo Chiamato Namida Che purtroppo è stato cancellato Sembra che Shoji abbia poi risistemato la storia Togliendo i riferimenti a Tengayama Q E ha scritto un romanzo che ha pubblicato nel 2007 Dopo Manjimaru Masuda era abbastanza distrutto E' stato un progetto molto importante per la sua carriera Però l'impegno e lo stress necessari per creare un gioco di quel tipo Erano troppo alti rispetto a quello che voleva fare Alla fine Tengayama Q era una serie concepita da altri Che puntava al grande mercato E non poteva cambiarla più di tanto Il risultato quindi non era molto diverso dagli altri JRPG Dopo aver lavorato con autori importanti come Akira Sakuma E oggi Heroi E soprattutto su giochi molto venduti in Giappone Adesso Shoji voleva creare qualcosa di originale La collaborazione su Metal Max gli ha fatto capire che trovando la giusta combinazione Tra ambientazione, tematiche e struttura del gameplay Era possibile proporre qualcosa di diverso Riuscendo comunque a coprire i costi di sviluppo Dal punto di vista economico e pragmatico Quando si vuole proporre dei giochi di nicchia Ci sono meno soldi disponibili per crearli E quindi non ha senso tentare di stare allo stesso livello delle grandi produzioni In parallelo per Masuda il mercato dei videogiochi negli anni 90 Gli sembrava troppo concentrato su bambini e adolescenti Tenendo conto delle evoluzioni sociali Col passare degli anni ci sarebbero stati molti più adulti interessati a giocare E quindi un nuovo tipo di pubblico interessato a cose più complesse La decisione di Masuda di concentrarsi su piccoli progetti alternativi E' stata influenzata anche dalla nascita del suo primo figlio Da quanto racconta tra le persone che lavoravano nel mondo dei videogiochi Lui era uno dei pochi con una moglie e una famiglia Quindi preferiva passare più tempo a casa che in ufficio a lavorare La sua situazione familiare in questo periodo Sarà anche l'ispirazione per le tematiche di giochi come Orenoshi Kabane e Linda Cube Masuda sentiva una certa eccitazione nell'immaginare dei nuovi tipi di RPG Anche se non sapeva ancora come, con chi e quando li avrebbe mai sviluppati Come abbiamo visto Shoji non è mai stato un grande videogiocatore Però questo non vuol dire che non gioca mai o che non gli piacciono i videogiochi Semplicemente ce ne sono pochi che lo incuriosiscono E ha tante altre cose che gli piace fare nella vita Di solito capita che qualche amico gli parla di un gioco E lui si prende bene e lo recupera Ad esempio nel 1994, quando è uscito il primo Tokimeki Memorial su PC Engine Masuda aveva 34 anni e si è preso tre giorni di pausa dal lavoro Per giocarselo tutto di fila finché non l'ha finito Il complesso sistema di statistiche, scelte multiple e rapporti tra i diversi personaggi Lo hanno fatto tornare a quel pomeriggio della sua adolescenza Quando camminava sotto la pioggia con la voce di Ayako Katagiri Vale la pena notare che ogni suo gioco principale è nato da un'esperienza personale Relativa a qualche evento familiare Come la nascita di un figlio o la morte di un parente In questo modo sintetizza esperienze o conflitti universali di vita e morte In una tematica che fa da traino al resto del gioco Ad esempio può essere il passaggio generazionale da genitori a figli Per migliorare le abilità dei protagonisti di un RPG Per Shoji l'obiettivo di un game designer è proprio quello di trovare la giusta armonia Tra il gameplay e lo scenario che lo contiene Per questo solitamente parte da un concetto affascinante Poi immagina come potrebbe essere implementato nel gameplay E quindi inventa una storia e dei personaggi per giustificarne la struttura Nei suoi giochi trovi scelte o strategie multiple Che ti offrono un'esperienza diversa ogni partita Magari ogni gioco dura solo poche ore Però puoi rigiocarlo più volte per vedere ogni strada alternativa Queste tematiche e sistemi complessi lasciano spazio alla tua sperimentazione e immaginazione E sono proprio quello che rende così affascinanti i giochi di Shoji Masuda Il primo progetto indipendente di Masuda è stato l'Inda Cube Pubblicato per il Super CD-ROM del PC Engine nel 1995 Con un port su PlayStation e Saturn nel 1997 Forse ti ricordi che ti ne avevo parlato nel video sui giochi incompresi su PlayStation L'idea per l'Inda Cube gli era venuta durante la gravidanza di sua moglie E la tematica che voleva esplorare nel gioco era quella della sopravvivenza della specie Il gameplay è simile a un classico RPG a turni Però non c'è una missione lineare da seguire fino alla fine Il tuo obiettivo è quello di girare dove vuoi nel mondo Per catturare una coppia di ogni animale del gioco Prima che un meteorite distrugga la Terra In questo modo li salvi dentro un'arca spaziale Dove potranno accoppiarsi per continuare la vita su un altro pianeta Questa volta Masuda e Alpha System sono riusciti a inserire un orologio interno Che fa passare i giorni, i mesi e le stagioni Gli animali del gioco seguono questo orologio e cambiano il loro comportamento a seconda del periodo dell'anno Ad esempio alcuni mostri vanno in letargo in inverno Quindi non riesci più a catturarli e devi aspettare che torni la primavera Quando sono passati otto anni nel gioco il meteorite colpisce la Terra E sblocchi uno dei suoi finali Qualsiasi numero di animali sei riuscito a salvare Usando i materiali raccolti dagli animali Crafti anche armi e oggetti E poi ad estrare dei cani come Segugi da caccia Per aiutarti a trovare e catturare gli altri mostri Oltre alla struttura libera nel gameplay c'è anche una trama spastica Divisa in tre scenari diversi Ognuno è una linea temporale alternativa dello stesso mondo Dove cambiano i ruoli dei personaggi e le zone da esplorare Ad esempio il fratello del protagonista potrebbe essere un nemico oppure un compagno fidato Nelle prime due linee temporali ci sono dei nemici vestiti come Hitler e Babbo Natale Invece appena inizi il terzo scenario Il protagonista scivola su una buccia di banana E rimane in coma per un anno prima di poter giocare Puoi capire come sia molto diverso dalle classiche storie degli RPG giapponesi Uno dei personaggi principali è appunto Linda È un'amica d'infanzia del protagonista Che cambia personalità a seconda dello scenario Quando la vedi per la prima volta salta fuori a caso E tira una mazzata al protagonista per qualche motivo E da quanto racconta Masuda All'inizio del progetto Linda non esisteva ancora Poi uno dei capi della NEC Gli disse che se voleva vendere il gioco su PC Engine Era meglio se ci fosse una bella ragazza nella storia Per me gran parte del fascino di Linda Cube è dovuto al bellissimo character design di Tatsuyuki Tanaka Lo stile dei suoi disegni era molto diverso da quelli che si vedevano in altri RPG di quegli anni Era più simile ad autori come Otomo e quindi attirava la curiosità di un pubblico più vecchio della media Sono serviti più di tre anni di lavoro per sviluppare il gioco E nel frattempo Masuda ha lavorato anche su altri progetti minori Come Heracles Noeiko 4 Emerald Dragon Oppure Shonin Yota Ishi E purtroppo quando Linda Cube è uscito nel 1995 Ormai il mercato del PC Engine era in declino E il gioco non ha venduto molto Anche i port su Playstation e Saturn non hanno avuto un grande successo Visto che non aveva una grafica all'altezza degli altri giochi a 32 bit Il gameplay era un po' troppo strano per il giocatore di quegli anni E' un po' lo stesso problema che abbiamo visto anche con Moon RPG e altri giochi di Love Delic Solo col passare degli anni Linda Cube è diventato un gioco cult Grazie al passaparola degli appassionati Che hanno riconosciuto il gameplay sperimentale e la storia fuori dagli schemi Il gioco è uscito solo in Giappone e al momento non esiste una traduzione amatoriale Anche se ci stanno lavorando da molti anni e prossimamente qualcuno potrebbe davvero riuscirci Nel 1997 esce Next King Koinosen Nen Okoku Pubblicato su Playstation e Saturn Sviluppato sempre da Masuda con l'aiuto di Alpha System Immaginano un po' come un mix tra Momotaro Dentezu, Final Fantasy e Tokimeki Memorial Praticamente è un gioco da tavolo multiplayer con elementi da RPG Fantasy Dove l'obiettivo è quello di conquistare le ragazze e diventare il prossimo re Quando aveva giocato a Tokimemo Masuda ha provato a immaginare un girl game diverso dal solito Quando era giovane se c'era una ragazza che gli piaceva molto probabilmente non era l'unico che ci provava E magari lei preferiva un altro di questi ragazzi Gli sembrava quindi interessante un simulatore di appuntamenti con un sistema imprevedibile Dove oltre a te ci sono anche altri tre ragazzi che puntano allo stesso obiettivo In questo modo le variabili da considerare aumentano esponenzialmente Visto che non prevedi o non controlli il comportamento degli altri giocatori Ad esempio qualcuno potrebbe risolvere una delle quest mentre sei occupato a fare altro Oppure chiedere un appuntamento alla ragazza che ti piace Nel gameplay ti ridadi e ti muovi sul tabellone della città per partecipare agli eventi Parlare con le ragazze e customizzare il tuo equipaggiamento Con il passare dei turni passano anche i giorni della settimana E durante il weekend puoi invitare una delle ragazze a esplorare insieme i dungeon Dove sconfiggere i mostri in combattimenti a turni Aumentando così la tua popolarità Alla fine dei turni il re sceglierà il suo successore In base ai voti che riceverà dalle ragazze più popolari E la cosa importante però non è solamente diventare il prossimo re Ma anche confessare il tuo amore a una delle ragazze che ti ha votato Sperando naturalmente che contraccambi Nel gioco c'è una modalità in singolo contro il computer Dove segui la storia per un anno Oppure puoi anche giocarlo in multiplayer contro gli amici In un torneo che dura per due o tre mesi Nella storia in singolo ogni ragazza ha diversi eventi da sbloccare Che sono relativi a parti della sua personalità Ad esempio dei traumi, dei segreti o dei sogni E visto che ogni evento occupa dei turni Devi giocarlo più volte Se vuoi approfondire le personalità di tutte le ragazze Da fan dei giochi in stile Dokapon Per me Next King sembra uno dei progetti più interessanti di Masuda E mi piacerebbe un sacco giocarlo in multiplayer con gli amici Purtroppo anche questo è uscito solamente in Giappone E a oggi non esiste una traduzione amatoriale Nel 1992 Quando Shoji ha tenuto in braccio per la prima volta suo figlio È stato travolto da un certo senso di passaggio generazionale Sua nonna era ancora viva E faceva uno strano effetto vedere insieme Quattro generazioni della stessa famiglia Con il fascino della propria stirpe Che si dirama nel tempo Quella nascita segnava che Il suo ruolo nel mondo era concluso E lo metteva davanti alla consapevolezza Che un giorno sarebbe morto E suo figlio avrebbe portato avanti L'esistenza della famiglia Masuda Come capita spesso le profonde sensazioni della vita Sono anche quelle strettamente legate Ai forti presagi della morte È in quel momento che è nata la tematica Di Ore no Shikabane o Koete yuke Un RPG incentrato proprio sul passaggio generazionale Lo scenario è quello di un clan maledetto In cui i membri muoiono nel giro di un paio di anni E possono concepire figli solamente accoppiandosi con delle divinità Che velocizzano anche la crescita di questi esseri semi divini Seguendo l'orologio interno del gioco I due anni durano un paio di ore Facendo passare i giorni, i mesi e le stagioni I figli concepiti crescono velocemente E nel giro di due anni diventano i nuovi protagonisti Quando muoiono le generazioni precedenti Continuando in questo modo per decine e decine di generazioni A ogni passaggio i nuovi protagonisti migliorano le loro abilità Grazie all'esperienza raccolta dai loro genitori E alle divinità scelte per procreare Oltre che ricevere in eredità delle armi e degli oggetti sempre più forti Il gameplay è quello dei classici dungeon crawler Con combattimenti a turni e livelli random Però il tempo è una meccanica fondamentale Visto che ogni minuto che passa ti avvicina alla morte di una delle generazioni Questa struttura ti permette di organizzare diverse strategie durante l'avventura Ad esempio scegli di lasciare morire un personaggio della generazione precedente Durante un combattimento Perché sarebbe comunque morto per la maledizione E con il suo sacrificio è riuscito a uccidere un boss molto forte E recuperare qualche arma speciale Che andrà in eredità ai suoi figli Le tematiche del gioco sono facilmente intuibili da un pubblico adulto E Massoud ha pensato anche di inserire delle opzioni Per rendere il gioco più accessibile agli adulti Visto che hanno poco tempo libero Ogni dungeon dura solo mezz'ora E se giochi nella modalità semplificata Alcune parti vengono riassunte o tagliate E puoi finirlo tutto in poche ore Oren Oshikabane è uscito nel 1999 su Playstation All'inizio non ha venduto molto Però col passare del tempo è diventato un cult Sono usciti anche un port e un remake su PSP E in totale ha venduto più di mezzo milione di copie Nel giro di 12 anni Anche questo è uscito solo in Giappone E mentre sto lavorando a questo video Non esiste una traduzione amatoriale Per fortuna però nel 2014 è uscito il seguito su PS Vita Creato sempre da Massouda con Alpha System E pubblicato ufficialmente anche in occidente Con il titolo di Oreshika Tainted Bloodlines Forse ricordi che te ne avevo parlato nel video sui giochi alternativi per PS Vita Questo seguito riprende tutte le caratteristiche del primo capitolo E le migliora per venire incontro alle tue abitudini moderne Al momento Reshika è ancora disponibile su Playstation Store Però se in futuro lo tolgono Esiste anche una versione fisica uscita in Asia Che contiene anche l'inglese Comunque immagino che il prezzo di questa versione salirà molto col passare degli anni Nel 2001 esce invece Abba Renbu Princess su PS2 In quel periodo era nata la prima figlia di Massouda Dopo due figli maschi E quindi voleva celebrare l'evento con una protagonista femminile È un sistema di gioco incentrato sui dialoghi, le scelte e i rapporti tra i personaggi Piuttosto che le strategie di combattimento Praticamente è un RPG dove i personaggi salgono di livello Solo in base alle scelte che fai durante i dialoghi Quando esplori il mondo non ci sono combattimenti E gli unici nemici da eliminare sono i boss alla fine di ogni capitolo Un po' come se fosse una serie di anime settimanale Non a caso lo stile del gioco è proprio quello di un cartone animato Pieno di avventura e umorismo Con un sacco di personaggi strambi E anche una sigla iniziale con la musica divertente La struttura del gameplay si concentra sui dialoghi Che influenzano le abilità dei personaggi E il loro equipaggiamento A seconda delle scelte che fai durante la storia Ad esempio se decidi di ascoltare un certo personaggio Questo magari si aggiunge alla tua squadra Però se lo eviti trovi invece un'arma nascosta In qualche stanza del castello Allo stesso modo il rapporto tra i protagonisti Cambia seguendo le risposte nei dialoghi E quindi durante i combattimenti con i boss Sono più o meno affiatati e performanti Da quanto capito nella storia La protagonista deve trovare ed eliminare dei mostri Che si sono nascosti nel castello Travestendosi da altri esseri umani Quindi i dialoghi sono anche utili per scoprire Chi tra i personaggi è in realtà un nemico Lo stile di Abba Rainbow Princess Mi ricorda molto Radiata Stories E l'idea di tenere i combattimenti a turni Solo per i boss per me è bellissima Così non ti fa perdere tempo Con centinaia di battaglie superflue E ti godi solamente quelle più interessanti Purtroppo anche in Giappone Il gioco non è stato molto apprezzato E a quanto pare ha venduto solamente 10.000 copie Come puoi immaginare non è mai stato pubblicato in occidente Quasi nessuno si ricorda che esiste E al momento non c'è una traduzione amatoriale Nel 2004 esce Wagariu Omio Su Playstation 2 Concepito da Masuda 8 anni prima E sviluppato da Sony Nel giro di 5 anni E' uno dei suoi giochi che non sono particolarmente interessanti Però vale la pena citarlo Per la simulazione di crescita dei draghi E' un classico RPG a turni Mischiato a un simulatore di vita Durante l'avventura allevi i draghi del protagonista E a seconda di come li tratti E di cosa gli dai da mangiare Si evolvono con più di 20.000 forme E dettagli diversi Praticamente un tamagotchi in 3D Però sembra che non abbia avuto molto successo in Giappone E anche dai commenti che ho trovato Non sembra essere piaciuto molto Nel 2005 Shoji aiuta anche a scrivere lo scenario Per Gun Parade Orchestra Green Chapter che è uno dei capitoli PS2 di questa serie affascinante Di cui ti avevo già parlato nel video sui giochi PlayStation in compresi Poi ho lavorato anche su Tales of the War Dungeon 3 per GBA E tanti altri giochi più o meno interessanti per cellulare Nel 2007 poi ha aiutato Pyramid con lo sviluppo di Patapon Che è uno dei giochi più originali e divertenti usciti su PSP Il gioco era stato concepito da Hiroyuki Kotani e Atsushi I E Masuda li ha solamente aiutati con l'organizzazione del team e la scrittura dello scenario Intorno al 2010 ha poi collaborato con Namco sul concept di Time and Eternity Che è un altro RPG con alcune idee interessanti Uscito poi su PS3 Oltre allo stile particolare che unisce animazioni in 2D con un mondo in 3D C'è tutto un sistema di viaggi nel tempo E una protagonista con una doppia personalità Che porta a tutta una serie di situazioni demenziali Quanto pare Shoji aveva partecipato solo alla prima parte dello sviluppo Poi Namco non si era più fatta sentire E pensava che il progetto fosse stato cancellato Quindi poi si è meravigliato quando lo hanno annunciato ufficialmente Ed è uscito davvero Comunque per questo motivo non sappiamo quante delle sue idee Siano state poi lasciate nella versione finale La cosa importante da ricordare è che in tutti questi anni Masuda ha sempre lavorato su qualche progetto Anche se nella maggior parte dei casi Sono giochi su commissione O progetti meno interessanti Che non fanno parte delle sue opere principali Mentre sto lavorando a questo video L'ultimo gioco affascinante di Masuda È Hero Must Die La prima versione del gioco È uscita nel 2007 Su cellulare Sviluppato dal team Pyramid È disegnata in grafica 2D Con sprite in stile Super Nintendo Nel 2009 è poi uscita una seconda versione Sempre su cellulare Che migliora alcuni sistemi del gameplay E aggiunge nuovi contenuti Quello che ci interessa di più però È il remake del gioco in 3D Uscito su PS Vita nel 2016 E poi nel 2020 Su Nintendo Switch, Steam e PS4 La tematica di Hero Must Die Era stata concepita da Masuda Già nel 1995 Quando i medici dissero a suo padre Che gli rimanevano solo 5 o 10 anni di vita A causa di una grave malattia Questa consapevolezza Cambiò in suo padre Il modo di rapportarsi con il mondo E con gli altri Cominciò a fare cose che non aveva mai fatto prima Era più gentile Però piano piano perdeva le sue energie Quando è morto Shoji ha organizzato il funerale Incontrando molti amici di suo padre Per la prima volta E ascoltando aneddoti e ricordi su di lui Che non conosceva Era un po' come scoprire un lato parallelo Della sua vita che non aveva mai visto Questa esperienza ha portato alla creazione Di un gioco in cui vivere al meglio I pochi giorni che ti rimangono da vivere In superficie Hero Must Die È un RPG Dove esplorare il mondo Aiutare i personaggi in vari quest Però invece di cominciare dall'inizio dell'avventura Cominci dalla sua fine Infatti l'eroe ha già sconfitto il boss finale Però lo scontro è stato mortale anche per lui E gli rimangono solo 5 giorni di vita Oltre che aver dimenticato la ragazza Di cui era innamorato Nel giro di questi pochi giorni Sei libero di scegliere cosa fare Ad esempio Se aiutare i personaggi che incontri Se cercare la ragazza di cui era innamorato Oppure risolvere i problemi Che l'eroe aveva lasciato in sospeso Ci sono anche dei combattimenti a turni Però ogni giorno che passa L'eroe diventa sempre più debole E anche qui si ribalta Quello che succede di solito negli RPG Puoi anche donare alcuni oggetti O armi dell'eroe A qualche personaggio che ne ha bisogno Rendendo così sempre più difficili Le ultime missioni Il finale del gioco è naturalmente il funerale Di questo eroe E in base a cosa hai fatto prima di morire Ci sono persone diverse a partecipare Che raccontano cose diverse A seconda del rapporto Che avevi instaurato con loro Ogni avventura quindi dura solamente poche ore Però il sistema del gioco è sviluppato apposta Per essere rigiocato più volte Rivivi gli ultimi giorni dell'eroe In una specie di loop temporale Dove scopri quello che succede nel mondo E ogni volta prendi delle strade E delle scelte diverse Hero Must Die è uno dei pochi giochi di Masuda Che è stato tradotto E pubblicato ufficialmente in inglese Purtroppo quasi nessuno ne ha parlato E mentre sto lavorando a questo video È ancora poco conosciuto Tra gli appassionati di RPG Quelli che ti ho raccontato Sono tutti i giochi più interessanti Su cui ha lavorato Shoji Masuda Dal 1987 al 2021 Nel giro di quasi 35 anni Ha immaginato una lunga serie Di opere affascinanti e originali Che hanno influenzato pesantemente Il mio immaginario In fatto di RPG giapponesi alternativi Da Tengai Makiyu A Metal Max Passando per Linda Cube E Orenoshikabane Senza dimenticare Next King Hero Must Die E Abarenbu Princess È davvero un peccato Che rimanga un autore Così poco conosciuto in occidente Forse se in futuro ci saranno Più traduzioni amatoriali Dei suoi giochi Verrà riscoperto dai fan In Giappone fortunatamente Ha mantenuto una certa fama E oggi lavora molto Anche su romanzi E light novel Scrivendo O aiutando dei giovani autori A pubblicare dei volumi Che sono poi diventati Anche molto popolari Ci sono sviluppatori Game designer E scrittori Che hanno deciso di Lavorare nel mondo Dei videogiochi O dei libri Grazie all'influenza Delle opere di Masuda Lui è molto onorato Quando gli dicono Una cosa del genere Però gli invita a creare Qualcosa di Originale E interessante Dopotutto quando scompare Una vecchia generazione Di autori Lascia lo spazio Alle nuove generazioni Di autori Che a loro volta Influenceranno I nostri figli E nipoti Shoji comunque Ricorda che Non devi per forza Creare un gioco O scrivere un libro Per condividere Un sistema Una tematica Una storia Puoi farlo Allo stesso modo Cucinando del pane Seminando Dei fiori O qualsiasi Altra cosa Che ami fare Con questo documentario Su Shoji Masuda Si materializza Un altro tassello Importante Nel progetto Geekigemo Questi video Mi permettono Di approfondire Dei giochi E degli autori Che mi hanno sempre affascinato Per poi condividerli Con altre persone Come te Posso continuare Questa ricerca Nel mondo Dei videogiochi Dimenticati Grazie al supporto Dei ragazzi E delle ragazze Che mi aiutano Con le loro donazioni I canali youtube Più famosi Ricevono soldi Dalla pubblicità Oppure dalle collaborazioni Con le aziende Un progetto di nicchia Come Geekigemo Esiste solamente Grazie al supporto Di altri appassionati Se anche tu Hai voglia di aiutarmi Puoi leggere come fare Nella pagina Di Geekigemo Su Patreon A presto E grazie Per il supporto E grazie a tutti E grazie a tutti E grazie a tutti Grazie a tutti